Si respira aria di cazzo fra i vicoli di Bari Vecchia. Per la vigilia di Natale, infatti, immancabili i frutti di mare, il cazzone e i dolci tipici delle feste. Eziefele delle feste. Si stanno vendendo. Perchè? Oh, ne vendendo. Perchè dire no? Vecchiette, tagliatette, quadrucci, cazzoci, vecchioni che stanno lì. Non, 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 non! No! No, panetone! No, panetone! No, panetone! No! I panetone si mangia una mezzannotto. Grazie.